Salve! Salve a tutti! Buonasera, allora ricominciamo, riandiamo avanti con le nostre dirette, sono felicissima, stiamo riuscendo a farne una settimana, stasera ci sei tu Cristiano, sono strafelice. Cristiano Gallinella, per i pochi che ancora non lo conoscono, ma chi conosce il Bosco di Oggia lo conosce anche Cristiano, molto probabilmente è un permacultore, è un biologo, ha un'azienda agricola, ha un orto fantastico che andiamo sempre a visitare e che vi raccontiamo e fa parte della Scuola del Bosco, quindi questo gruppo di docenti con i quali abbiamo realizzato anche l'ultimo corso uscito che è quello dedicato alla permacultura, abbiamo fatto anche il corso suolo l'anno scorso, insomma c'è un bel percorso, corso percorso aiuto, anche nella formazione, tra l'altro lo ricordo subito, il corso permacultura che è uscito un paio di settimane fa, fino a domani, domani attenzione fino al 30 settembre, è in offerta speciale con lo sconto del 45%, quindi adesso parliamo di un tema particolare che appunto abbiamo affrontato nel corso, lo svisceriamo e cominciamo a rispondere anche alle vostre domande, perché in tanti hanno già iniziato a vedere il corso e si saranno sicuramente facendo delle domande, perché noi siamo stati esaustivi e abbiamo cercato di fare una spiegazione più accurata possibile di tutto quello che abbiamo spiegato, ma in questo caso della Google Culture, che adesso spieghiamo subito cos'è e quindi se ci sono domande iniziamo a rispondere alle domande, sarà anche questa sera una puntata insieme molto interattiva, quindi cominciate a scaldare le dita e così chiacchieriamo insieme. Allora, questa Google Culture, questa cultura della collina, del cumulo, insomma ha tanti nomi diversi, cos'è Cristiano? Da dove arriva? Raccontaci un po' di storia. Sì, allora il termine da un punto di vista storico compare per la prima volta nel 1962 in una rivista di botanica, scritta da Herman Andra, ma in realtà al di là della definizione e al di là del suo sviluppo, diciamo come termine Google Culture, che è relativamente recente, in realtà è una tecnica estremamente antica. Se andiamo a studiare e osservare le tecniche di coltivazione, la ritroviamo in realtà in molti continenti. Innanzitutto era un sistema utilizzato anche in Africa, in particolare in Cameroon, ma anche lo ritroviamo in America, in particolare in Sud America e soprattutto ha avuto tutta una serie di poi modifiche nel corso del tempo e di varie tipologie di assemblamenti, perché come vedremo è un sistema che è estremamente sofisticato per certi punti di vista e che si presta molto appunto a una coltivazione permanente, perché ha in sé proprio una enorme energia che riesce a rilasciare nel tempo. Apparentemente è un cumulo, appunto il termine stesso, un termine tedesco, è un sistema infatti che si è sviluppato principalmente nell'Europa centro-orientale. Significa coltivazione della collina, coltivazione del tumulo. Infatti come potete vedere sono dei sistemi rialzati, delle specie di, appunto, tumuli, delle queste mini colline che apparentemente possono visivamente somigliare a un orto sinergico, ma che in realtà hanno delle differenze enormi, proprio sostanziali. E già da questa foto potete capire di cosa stiamo parlando. Esatto, così Filippo ci ha rivelato tutto praticamente, con questa immagine non dobbiamo dire più niente. No, scherzo. Allora, le immagini che abbiamo visto prima sono quelle del Bosco di Ogigia, quindi noi abbiamo raccontato nel corso come realizzare questa Yugal Culture, poi durante l'estate l'abbiamo vista lavorare, adesso vi vedremo anche la versione, diciamo, di questi giorni, come sta, perché nel frattempo si sono succedute varie coltivazioni. Quindi il mio cumulo, la mia collina è relativamente bassa, insomma, rispetto a quello che si può fare, giusto Cristiano? Si possono fare anche molto alte questi cumuli. Dipende, infatti qui c'è un enorme dipende, perché dobbiamo capire dove siamo e dipende dal clima, fondamentalmente. Sono sempre delle strutture, sì, rialzate, però che possono avere delle grosse variazioni. La larghezza è l'unico parametro più standardizzabile, perché è un discorso gestionale, variano da un metro e venti, massimo un metro e cinquanta. L'altezza in realtà può variare da un minimo di quaranta, cinquanta centimetri a un massimo di un metro, ma addirittura un metro e mezzo, dipende dove siamo, perché ha una duplice potenzialità questo sistema. Da una parte riesce ad accumulare e immagazzinare acqua per i periodi più siccitosi, ma dall'altra, essendo appunto una struttura rialzata, riesce anche a far sgrondare, a far penetrare e a far drenare in maniera molto agevole l'acqua. Quindi ti permette anche di avere una superficie coltivabile costante nel tempo, soprattutto perché riesce a mantenere il terreno in tempra per una finestra temporale molto, molto ampia. E questo l'ho testato innumerevoli volte, è veramente un grande vantaggio. Bene, allora stiamo continuando a vedere le immagini del mio cumulo, che poi tra l'altro si può fare anche molto carino. Io sono particolarmente fiera del bordo che poi abbiamo fatto, per esempio un po' un bordo di contenimento è una caratteristica importante in questa coltura, diciamo, da tenere nella parte più bassa dell'aiuola. Certo, esattamente, esattamente, perché ovviamente una volta realizzata questa struttura tenderà con il tempo a degradarsi e quindi ad abbassarsi, perché sotto ha una grandissima quantità di materia organica, partendo proprio da elementi molto grandi, che è un materiale legnoso di grande diametro, che con il tempo, con gli anni, si degraderà. E anche tutte le altre parti che sono sovrastanti si degradano e quindi il cumulo si abbassa, fino a poi arrivare a un suo equilibrio. Però è importante delimitarlo proprio per contenere questa struttura. Poi dipende molto anche dalla modalità con cui il materiale viene aggiunto, e poi infatti nel corso lo approfondiamo in maniera molto specifica, e questo permette da una parte di immagazzinare una giusta quantità d'aria per far degradare la sostanza organica, e dall'altra però di mantenere comunque sia questa struttura. Allora serve un sacco di materiale, cioè questo diciamolo subito, non è una cosa che domani proprio andate nell'orto e la fate subito. Bisogna prima diciamo organizzarsi perché serve un sacco di materiale, almeno che non avete appena diciamo abbattuto un po' di alberi e siete proprio in periodo di potatura e quindi avete già dei bei ciocchi, ma insomma servono anche tronchi grandi, quindi il lavoro non è da poco. E poi serve anche materiale fresco, ci vuole un bello sfaccio dell'erba, se possibile della segatura. Insomma i materiali sono tanti, sono veramente tanti, quindi ecco l'organizzazione e la grande quantità di materiale. Tutta questa energia di riserva significa che la dobbiamo diciamo prendere da qualche parte. Esattamente, è una coltivazione inizialmente molto energivora perché come vedete veramente richiede grandissime quantità di materiale, poi ecco dipende anche quanto la fate alta, è tutto in proporzione, anche perché oltre a una grande quantità di materiale legnoso, di ramaglie, di frasche, di cippato, di sfalci verdi freschi, di compost, di terra di riporte, di paccia matura sovrastante e capire che parliamo di metri cubi. E quindi ecco dovete sì organizzarvi, però dovete anche contestualizzare il fatto che questo enorme sforzo energetico e di materiali che fondamentalmente sono tutti di recupero, quindi il costo è zero in realtà, perché veramente se fate un'osservazione accurata potete trovare moltissimo materiale per realizzarlo vi durerà molto tempo, perché veramente sono sistemi che minimo durano 7-8 anni, ma in realtà io nel mio orto ho una Yugel che ha già 10 anni e funziona perfettamente, ecco perché sono sistemi permanenti. Cioè quello che succede alla fine è che il cumulo scompare, però tutta quella materia organica che nel frattempo è stata decomposta completamente, è diventata humus e quindi c'è veramente una grossa riserva di materiali, di nutrienti, giusto? Cambia proprio la struttura del suolo a quel punto. Esattamente, infatti qui c'è proprio un elemento fondamentale. Il nostro obiettivo in permacoltura, in agricoltura organica rigenerativa è la rigenerazione del suolo e questo è un sistema che rigenera profondamente, permanentemente il suolo. Quindi anche in zone particolarmente degradate lo potete utilizzare. Infatti è un sistema che veramente storicamente nasce da una grande osservazione, perché soprattutto ecco in zone anche marginali poteva essere affrontato un sistema del genere perché poi con il tempo tendeva a migliorare. Molto spesso proprio storicamente, dato che erano sistemi di coltivazione di civiltà tradizionali, venivano proprio realizzate e gestite dalle donne. Mentre gli uomini si occupavano di altre attività più inerente alla caccia, alla pesca, alla raccolta e anche all'approvisionamento di materiale, le donne erano quelle che coltivavano, che gestivano, che sperimentavano e che producevano cibo. E quindi avevano visto che creare queste isole, queste zone con molto materiale alla base, addirittura sepolto, quindi scavando una trincea, avevano dei grossissimi vantaggi che duravano negli anni. Infatti è un sistema che si adatta moltissimo a una vastissima gamma di coltivazioni. E come vedete poi tutta quella materia diventa compost e quindi poi ci sarà un orizzonte molto ampio, molto profondo per le radici che quindi si esprimeranno nel tutto il loro potenziale, saranno molto vigorose. Esatto. Senti, è arrivato un commento, non so se l'hai letto, Agua de Luz ha scritto, io l'ho conosciuto grazie a Sepolzer. In uno dei libri di Sepolzer se ne parla. Sepolzer lo spieghiamo. Esattamente, il contadino ribelle in Alcrameterhof in particolare, lui è un maestro di questo sistema, anch'io l'ho approfondito grazie a lui perché ho fatto un corso con Sepolzer, è un sistema molto molto interessante, molto molto interessante. Tra l'altro altri autori che vorrei citare sono Jeff Lawton e Paul Wheaton, che anche loro hanno sperimentato anche in varie parti del mondo questo sistema, perché ecco, come dicevo, si adatta ai vari climi. Quindi dipende, c'è un grosso dipende. Considerate ecco la sua capacità di immagazzinare acqua, ma anche quella di poter farla drenare e anche in regioni molto molto più grosse. Ecco, quindi questo è importante, va bene, diciamo, come gestisce l'acqua la yugaculture? Perché quello che hai detto va bene, sia quando abbiamo poca acqua, sia quando ne abbiamo troppa praticamente, no? Perché è difficile da gestire? Perché questa caratteristica? Esattamente, perché innanzitutto quando noi mettiamo tutta questa grande sostanza organica in profondità, soprattutto ecco, legname, ciocchi, fungono da spugna. Sarebbe molto opportuno utilizzare non legna fresca appena tagliata, ma appunto scarti, anche già in corso di degradazione, semi macerati, che quindi sono molto umidi e tenderanno sempre di più ad assorbire acqua. Soprattutto sopra queste strutture poi vedrete che c'è una stratigrafia con un diametro di materiale decrescente, quindi una grandissima quantità di materiale carbonioso, al quale poi viene aggiunto una parte di materiale azotato, compost, terra di riporto e poi pacciamatura. E quindi questo fa proprio un effetto spugna. Un'applicazione interessante, ecco come vedete in questa sezione ben fatta, sarebbe addirittura per potenziare ulteriormente già questa capacità molto forte, spiccata, di immagazzinare acqua e di drenarla, sarebbe quella di per esempio di aggiungere biochar. Io per esempio sto sperimentando delle aggiunte di biochar superficiali, ma la prossima Google che realizzerò sicuramente andrò a posizionare anche il biochar in profondità. Quindi come capite potete anche poi evolvere la ricetta, il metodo secondo le vostre caratteristiche, le vostre esigenze e anche secondo i materiali che avete a disposizione. Certo, poi tutto si adatta, giustamente si deve adattare bene. Ottimo. Comunque grazie di questa idea del biochar, adesso la prossima volta che facciamo l'altro pezzo perché tra l'altro quello è soltanto l'inizio della nostra Google Cultura al Bosco di Ogigia, ci mettiamo anche il biochar stavolta. Ok, qui si vede la curva di livello perché poi c'è stata tutta una progettazione, abbiamo deciso la posizione in base appunto a una curva di livello, adesso non voglio entrare nello specifico, altrimenti ci fermiamo su questo e poi nel corso trovate tutti i dettagli, invece volevo rispondere già a alcune domande che ci sono arrivate riguardo appunto a questa tecnica. Una domanda interessante, visto che abbiamo parlato di cultura verenne, me l'hai già fatta apparire tu, perfetto. Alessandro, se realizzo due piccoli cumuli, posso poi coltivarci in pianta stabile anguri e meloni senza applicare le rotazioni? Tendenzialmente ti potrei rispondere di sì. Allora, consideriamo però che comunque sia una rotazione generale, se parliamo di orticole, è consigliabile. Se però riesci a strutturare una yugel con tutto il suo potenziale, puoi fare anche delle coltivazioni permanenti, sempre nello stesso punto. In questo caso ti suggerirei di lavorare moltissimo con materiale carbonioso e appunto di proprio potenziare questa capacità di trattenere l'acqua, considerando anche al tempo stesso che stiamo andando incontro a dei periodi, soprattutto in estate, estremamente siccitosi. Quindi in base poi alla tua latitudine, al posto, al clima, valuta sempre se è opportuno coltivare sulla yugel oppure, al contrario, poter anche coltivare o sul piano di campagna o su delle piccole buche che raccolgono anche l'umidità. Dipende sempre. Ecco, se mi parli di cocurbitacee, io generalmente le coltivo su delle camere biointensive, però si può sperimentare sulla yugel praticamente qualsiasi tipo di coltivazione. Va bene, quindi si può provare. Ci sono però anche altre tecniche adatte per cocomeri e meloni. Ho un altro problemino che ci hanno posto. Filippo, facci vedere, non so se l'avevi preparata. Anche l'altra domanda. Allora, tu infatti ci hai spiegato questa cosa, Cristiano, che si lasciano delle camere, rimangono automaticamente, insomma, anche se si va a reinserire tutta la terra che si è tolto, delle camere d'aria servono perché aiutano la decomposizione. Però a qualcuno è successo di avere problemi con i topi. Io per fortuna non ho avuto questi problemi, non so se a te è capitato. Quindi ecco, c'è un errore, bisogna accettare questa possibilità. Come possiamo evitarlo eventualmente? Allora, nei sistemi di cumulo, come anche nelle compostiere, può succedere che arrivino topi. Però è molto importante appunto la disposizione del materiale. Se c'è una disposizione molto precisa, quasi un tetris, difficilmente poi avete degli attacchi da parte di topi o arvicole. Dovete disporre proprio il materiale in maniera discretamente ordinata, assicurandovi che ci sia area, ma questo avverrà in maniera automatica, perché comunque sia voi fate una struttura rialzata e partite da una sezione di diametro molto grande fino ad arrivare a una sezione molto piccola, fino alle frasche, fino al cippato praticamente. Quindi si immagazzina un'enorme quantità di area, che è più che sufficiente. Mentre un affastellamento più disordinato poi porta sicuramente a delle cavitazioni naturali, a dei smontamenti, che poi vi costringeranno in realtà a riportare materiale sulla yugel. Quindi ecco, l'assestamento, qui è un esempio della yugel fatta proprio al Bosco di Ociccia, è molto importante. Quindi stratificare gradualmente tutto il materiale in una maniera ordinata. Quindi bisogna anche prepararlo bene il materiale, se si hanno ramaglie, per esempio, poi vanno scomposte nei singoli rami. Il più possibile dobbiamo avere un materiale ordinato in modo da lasciare sia aria, ma non troppa. Esattamente. E mandi in mano bagnare anche il materiale, se è troppo asciutto. Anche questo è utile. Utilizzando, ecco, come dicevo, materiale, comunque sia almeno una parte, già parzialmente degradato. Cioè già colonizzato da batteri e funghi che già troveranno altro materiale per continuare il loro processo di degradazione. Anche questo è importante. Quindi vi dovete organizzare con una bella squadra di lavoro, con gli amici, perché insomma poi farlo in una giornata diventa abbastanza complicato considerando tutte le operazioni. Tra l'altro è conveniente sbrigarsi, dopo aver aperto, diciamo, il fossato, perché si va a scavare sotto, è abbastanza utile richiudere il prima possibile. Altrimenti, se non si riesce in giornata bene metterci un telo, no? Nel caso dovesse arrivare la pioggia, si potrebbe creare dei compattamenti. Esattamente. Sì, sì. Se si inizia il lavoro, ecco, sarebbe importante nell'arco della giornata terminarlo, poi sì, bagnarlo, oppure magari ecco in concomitanza di precipitazioni, in modo tale che poi c'è anche un percolamento naturale e quindi anche una miscelazione dei vari materiali. E poi, come sempre, il cumulo tenderà ad assestarsi. Poi anche qui ci sono varie teorie, se avviarla immediatamente o aspettare, ecco, quei sei, otto mesi di assestamento. Io l'ho messa sempre subito in produzione, ma anche la prova fatta al Bosco di Ociccia, Francesca ci può dire com'è andata, perché è stata subito messa in produzione e il risultato è stato ottimale. Sì, sì, assolutamente. Adesso voglio raccontare com'è andata, Cristiano, mi fai anche tu un feedback e ti voglio raccontare cosa è successo, anche se sei tornato a trovarmi, l'hai vista in alcuni momenti. Comunque, tanto leggo questo commento di Ted Hypersonic Graph. I topi si combattono con i gatti e qui siamo, fin qui siamo d'accordo, e anche con i lupi, io non lo sapevo, i lupi. Direi con i serpenti. Ecco, questo già potrebbe spaventare qualcuno, perché comunque l'idea di avere dei serpenti che vengono a abitare nell'orto può spaventare. Allora, questa bella domanda di Andrea, questa te la volevo fare anche io, poi dopo torniamo a quello che ci stavamo dicendo. Se non ho capito male il legno di castagno non va bene, meglio quercia conifero, posso usare anche ciocchi di castagno? Ce lo chiede Andrea, che tra l'altro vive sulla miata, quindi ha castagni a disposizione. Allora, in linea di principio si usa sempre il materiale che uno ha a disposizione. Quello che potrei consigliare è di evitare, in particolare il noce, grandi quantitativi di legno di conifere, quindi preferite, se possibile, le latifoglie, il legno di castagno, diciamo, con parsimonia e possibilmente già in avanzato stadio di degradazione. Questo è importante. Il pino, il cedro, il noce, l'ailanto, la robinia, sono varietà che dovresti utilizzare con molta attenzione e soprattutto, ecco, se sono già in macerazione. Perché la motivazione è molto semplice, contengono delle sostanze allelopatiche che molto spesso nel primo periodo hanno delle attività, delle capacità, delle proprietà antimicrobiche e antimicotiche e quindi questi ci vanno a ostacolare funghi e batteri, cosa che invece noi vogliamo essere floridi e vogliamo che trovino l'ambiente migliore. Noi ce l'abbiamo messo un ciocco di pino, soltanto un ciocco, per vedere, era già abbastanza stagionato, stava là da un bel po', quindi insomma abbiamo... Esattamente. Quindi differenziare, anche in questo caso, diciamo, la biodiversità... Differenziare possibilmente, ecco, latifoglie, sfalci, potature, anche se fate una passeggiata, per esempio adesso, dopo che hanno, diciamo, tagliato un bosco, trovate una quantità di materiale che resta abbandonato, per dire. Un altro esempio, in questo periodo magari chi ha, chi utilizza la legna, io proprio in questi giorni ho stottato diversi quintali di legna e alla base rimane sempre del materiale che è quasi un cippato, le scorse, tutti i residui che sono ottimi sia per il compostaggio, sia per la faccia matura, ma anche proprio per creare un altro strato della Google. Quindi dovrò fare qualche passeggiata, perché adesso, diciamo che verso febbraio, non so quando facciamo il prossimo pezzo, Cristiano, dobbiamo cominciare a mettere da parte il materiale, perché... Eh, appena abbiamo il materiale pronto, si parte con un'altra sezione. Sì, sì, no... Io il carbone l'ho già preparato. Questa volta diceva Filippo che, tra l'altro è alla tastiera, eh, no, questo lo... Penso che me lo immaginate, perché noi abbiamo una chat attivissima, domande e risposte, sappiamo Filippo che oltre a guardare, tu mandarci le foto, guardare tutte le mille cose da fare contemporaneamente, anima anche la chat, quindi... e ci suggeriva di che, ma insomma, l'avrei voluto dire che comunque la nostra intenzione stavolta è quando la facciamo nel prossimo pezzo di riuscire a farlo, diciamo, condividendo l'esperienza, almeno con un gruppo delle persone che ci seguono, che ha modo di venire, insomma, organizzarci un corso, insomma, un incontro dove si possa condividere la tecnica dal vero, visto che facciamo molto online, ma ci piacerebbe avere anche degli incontri dal vero, però ecco, non promettiamo, Filippo, non promettiamo cose che ancora non siamo sicuri, poi rischiamo. Allora, questa domanda, Camio, quindi se si formano i funghi non va bene? No, se si formano i funghi va bene, ovviamente ci sarebbe da fare un enorme distingo tra fungo e fungo, però voi considerate, per darvi un'immagine, un esempio pratico, il classico tronco di legno, ramo di legno che è adagiato nel bosco, nel sottobosco, che come vedete viene attaccato da una miriade di funghi che gradualmente lo degradano, poi arrivano ovviamente i batteri che continuano questo lavoro e mandi in mano, mandi in mano, quel tronco diventerà e verrà trasformato in humus. Quindi vogliamo quel tipo di materiale, quei primi centimetri che sono ricchissimi di vita, che sono loro che trasformano, quello ci interessa. E i funghi in particolar modo perché sono i primi degradatori delle lignine, delle cellulose, delle amicellulose, quindi delle parti legnose, carboniose che abbiamo messo. Si vogliono per forza, se non arrivano i funghi, non ci sono i funghi per qualche ragione e non si può fare la decomposizione. Allora, legna di olivo si può utilizzare? Certamente che sì, certamente che sì. Io ecco, generalmente su quello, avendo molti olivi, faccio una selezione. La parte migliore dell'olivo, delle potature, quando è disponibile la selezione per riscaldamento domestico, però va benissimo utilizzare anche la Yugel, come tutte le frasche, le pendie e tutto il cascame di risulta più fino. Sì, ok. Filippo mi suggerisce ormai, mi fa da promemoria. Filippo, basta, mi distrai, non devi parlarmi durante la diretta. Allora, il racconto della mia Yugel, come è andato? Allora, intanto, come abbiamo finito il lavoro, come, ecco, ci sei anche tu, al lavoro abbiamo messo un sacco di piantine. Abbiamo messo subito, visto che eravamo nella stagione giusta, bietole, varie insalate, abbiamo messo anche un po' di fragole, un sacco di cipolle che non finisco più di trovare. Ogni tanto ancora ne trovo qualcuna, perché ne abbiamo messe così tante che non le ho tirate fuori. Mi tucciate sempre. E' una bellissima cosa, quando ritrovo una cipolla rimasta. No, dico, ecco, mi fa proprio go. E poi abbiamo messo le erbe aromate. Ecco, questa è, per esempio, una cosa interessante, importante, no? Si può utilizzare, per esempio, la sommità per delle piante perenni, quindi molte piante aromatiche. Poi, andando avanti, ho messo, ho fatto anche qualche sperimentazione con peperoncini, melanzane, ma lì, diciamo, sono arrivata un po' in ritardo, quindi sulle melanzane non è andata troppo bene, ma non do la colpa, diciamo, alla Yugel. Sono poi, è una pianta, le melanzane, che da me, insomma, faccio sempre fatica a far crescere. Abbiamo messo i porri che sono, che stanno crescendo adesso. Poi, d'estate, ho iniziato, man mano che toglievo tutte le insalate, ho iniziato a rimettere cose nuove, mettendo anche delle insalate che andavano un po' più sull'invernale e lì, diciamo, che probabilmente l'ho messo troppo presto, soprattutto il rapporto al fatto che quest'estate ha fatto veramente caldo fino a poco tempo fa, poi è arrivato improvvisamente anche fin troppo freddo, però ha fatto molto caldo, c'era questo sole che picchiava fortissimo e quindi mi bruciava proprio, mi bruciava le piantine, ma non è colpa della Yuga, insomma, quindi ho avuto un po' di difficoltà a riempirla subito. Adesso abbiamo rimesso tutto quanto, insomma, ci sono un sacco di insalate, abbiamo rimesso anche una varietà di cipolle che dovrebbero svilupparsi in questo periodo e i cavoli, insomma, l'abbiamo riempita di nuovo. Poi sono nate anche cose spontanee, era nata una zucca che è partita da sola, avendo messo tanto terriccio avevamo anche semi che hanno prodotto qualche pianta spontaneamente. Certamente, sì, consideriamo, ecco, appunto, il periodo estivo è estremamente critico su tanti punti di vista. È evidente che riuscire anche a ricreare un microclima, non soltanto a livello della Yuga, ma anche sopra, quindi iniziare a pensare di utilizzare dei teli ombreggianti, dei teli protettivi, questo sarà di aiuto per tutte le coltivazioni e per tutto l'orto, perché, comunque, sì, obiettivamente stiamo andando incontro a stagioni sempre più estreme, quindi dobbiamo, appunto, progettare proprio per le emergenze. E per quanto riguarda, ecco, la Yuga è uno degli strumenti che utilizzerei, cioè nell'orto, in un orto generico immagino che ci sia una zona fatta con questi sistemi, perché poi enormi vantaggi. Pensate proprio adesso, per esempio, a un periodo che anche da noi piove moltissimo, grandissime precipitazioni, copiosi, anche a volte con dei temporali di fortissima intensità, e la Yuga si comporta benissimo. Il giorno dopo puoi andare in orto, trapiantare, seminare, è fantastica, è veramente versatile, è veramente resiliente. Sì, 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 magari si fa una pacciamatura speciale intorno per un modo da poterla sempre raggiungere. Esatto, non ci sono periodi in cui non può essere praticata. Esattamente. Filippo, vieni tu. Allora, sono arrivata solo ora, si possono mettere le patate a una terra molto dura e le patate non vengono? Ok. Certamente sì, diciamo ci può essere proprio la variante della patataia. Comunque sia, sì, ovviamente dovrai assicurarti di avere un terreno, uno spessore di terreno utile, già di partenza importante, formato ovviamente da una miscela del compost e della terra di riporto. Anche è un terreno estremamente argilloso e con questo sistema ho trovato enormi soluzioni. Senti, ci chiedono se esistono dei libri lingua italiana che spiegano questo metodo, se ne potete indicare uno. Io intanto indico questo, visto che ce l'ho qua, poi tu dimmi quali altri hai da suggerire sicuramente. Questo è quello di Sepolster, che è una guida pratica alla permacultura, quindi qui trovate tantissimi altri temi, diciamo di coltivazione su collina trovate tre pagine, insomma non tantissimo, però ne parla. Sì, sì, ma anche gli altri libri di Holzer sono stati tradotti, ma anche ecco se studiate i libri di Mollison, di Holmgren, ne trovate tantissimi spunti inerenti. Ok, quindi Bill Mollison, magari mettiamo qualche link, Filippo, quando, diciamo dopo la diretta, lasceremo sotto qualche link ai libri che si possono acquistare. E poi c'è il corso, non dimenticare, se volete imparare bene, abbiamo cercato veramente di spiegarla approfonditamente, anzi Cristiano, poi siccome abbiamo deciso di aggiornare il corso mano a mano, eventualmente faremo qualche feedback ulteriore, se ci sono a fare delle precisazioni, proprio anche all'interno del corso. Sì, sì, abbiamo già iniziato ad aggiungere, siamo usciti due settimane fa, già stiamo aggiungendo capitoli, quindi insomma continueremo a farlo, magari mettiamo qualcosa in più anche sulla Google, però insomma ci sono tutte le fasi dalla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, Cristiano ha spiegato tutte le fasi anche di gestione. Allora ci dovrebbero essere altre domande, vero Filippo? Ma io voglio chiedere se voi sentite la voce di Filippo da casa, perché lui mi dice, devi dire, ok? Allora, aiuto proprio. Allora, c'è una bellissima locandina che ci ricorda che il corso c'è fino a domani, Filippo basta con le promo, hanno capito tutti, basta, se vedo che non mi fai fare altre promo prima della fine della puntata. Fino a domani, ok, domande, vai con le domande, scusami, so se le vuoi far vedere tu o se le guardo direttamente io, ci pensi tu, ok, lo faccio io. Allora, ah ok, bellissima l'idea del sale centrecciato come contenimento. Questo in realtà, se vi spiego come l'ho fatto, nel frattempo che Filippo trova altre domande. Non è un salice. Allora, diciamo, i sostegni provengono da un albero potato proprio in quel periodo, un albero che ho a casa, che fa questi rametti proprio abbastanza dritti, quindi prendiamo dei segmenti di tronchi di un anno, di rami di un anno, che proprio vi sono resistito benissimo, quindi una pianta tosta, ma non vi so dire il nome, scusate. Li ho conficcati a terra e poi ho intrecciato in realtà i tralci di vite, perché la Yuga era stata realizzata proprio in periodo di potatura della vite e ho potuto recuperare i tralci come materiale. Dico, a distanza di diversi mesi è perfetta, regge benissimo, quindi penso che continuerò così. Poi col tempo magari potrebbe servire qualche manutenzione, vediamo, insomma, però... Eh, tanto il prossimo anno riavrai altre vite. Sì, sì, no, infatti dobbiamo... ormai quei materiali li continuo ad utilizzare. Ah, ecco, ci abbiamo un messaggio del Bosco di Ogigio, il simpaticone di Filippo. Beh, ragazzi, quando avrò imparato a farvi le dirette, verrà Filippo a fare la puntata. Allora, a un tenimento o una montagna di bambù, beh, mi sembra un ottimo materiale, si possono mettere tutte le cannette, anche divise a metà, un'attaccata all'altra, oppure creare... Ecco, assicurandoci che sia, diciamo, secco perché può ricacciare. Eh, bravo, infatti, anche con i materiali di la vite si può... Esattamente, come la canna palustre, la canna comune, la rundodonax, utilizzatela, però con attenzione, perché ha una potenza enorme e proprio quei rizomi tendono a ripartire ovunque, anche dei piccoli frammenti. C'era una domanda proprio su questo, Filippo, non so se l'hai trovata. Allora, no, però Filippo, scusami, no, aspetta, questa la vediamo dopo, è bellissima, ce n'era una che riguardava proprio le canne, dice, io ho uno spazio, l'hai trovata, la leggiamo quella, grazie. Allora, un piccolo spazio, occupato da canne comuni, se le riduco in cippato, vanno bene? Certamente sì, certamente sì. Ok. Tra l'altro, ecco, si è canna fresca, come posso immaginare, e viene subito cippata, è una sorta di BRF, quindi un perfetto rapporto carbone-azodio, quindi fantastico. Però la cippiamo in modo che, insomma, non corriamo le storie. Vediamo questa bella immagine che prima Filippo ti aveva fatto togliere, questa è veramente carina. Lo facciamo anche noi la prossima volta, lasciamo un lato aperto con il vetro come si fa con gli alveari. Esatto. È molto interessante, anche se penso che questa luce darebbe un po' fastidio alle radici. È molto bello, qui si vede tutta la sezione, in realtà non si vede tutta, perché c'è tutta la parte interrata, si va sotto di almeno 30 centimetri e anche di più, quindi così. Allora dai, Filippo, possiamo rimettere la domanda quella, l'altra carina, l'ortosinergico, un altro tema interessante, perché effettivamente le yugaculture assomigliano, sembrano proprio un orto sinergico e quindi si può fare confusione. Può essere anche un'evoluzione dell'ortosinergico, perché magari le tecniche dell'ortosinergico, delle consociazioni possono poi essere trasferite in quest'altro tipo di cumulo. Certamente. La leggo Marco White Wolf. Da giugno ho lavorato un pezzo isolato del mio giardino, 15 metri quadri, argillosissima e dura come il cemento, vangato 30 centimetri a mano, adesso stallatico e paglia, ma ora mi si smonta il mito dell'ortosinergico. Dopo tanto lavoro. Diciamo che l'ortosinergico è un metodo, è una tecnica, come lo è la yugaculture. Se dovessi fare un'analisi, la yugaculture mi svolge molte più funzioni, ha molto più potenziale, perché fondamentalmente un orto sinergico è un cumulo di terra, generalmente preso da vialetti. Quindi non ha insito quelle capacità di rigenerazione del suolo nei tempi che prevede l'agricoltura organica rigenerativa. Perché attenzione, noi dobbiamo come obiettivo porci quello di rigenerare suoli, ma in tempi discretamente rapidi. Un orto sinergico tenderà a rigenerare il suolo, ma in tempi molto più lunghi, giusto la pacciamatura, la consociazione, la successione, il lasciare in campo sempre i residui vegetali. E questo lo facciamo sempre, anche nella yugel. Ma la yugel dà quel potenziale, quella massa di sostanza organica enorme che le permette di migliorare stabilmente il suolo. Un domani, quando non ci sarà più la yugaculture, lì potete coltivare qualsiasi cosa in maniera sicuramente florida e vigorosa. E tra l'altro ci diceva che il terreno è anche argilloso, quindi insomma, bello che tende a compattarsi. Il mio lo stesso. Quindi un semplice sinergico rischia di compattarsi ancora di più quando si va a soprapporre lo strato del vialetto su quello dell'aiola, a volte si crea. E tra l'altro aggiungo che tende molto più facilmente a essere colonizzato dalle spontanee, cosa che nella yugel avviene molto di meno. Perché essendoci uno scavo profondo, si fa anche un diserbo manuale profondo. Quindi le spontanee arriveranno molto tempo dopo e sarà molto più facile gestirle e contenerle. Ok, certo. Allora, Filippo, avevi messo un'altra domanda interessante che... Ok, Alessandro. Sì, ok. Scusa, bisogna che mi legga da sola, sennò perdiamo un sacco di tempo. Grazie, Filippo. Quest'anno è stato il primo anno che ho fatto l'orto. Ho provato con questo metodo di coltura, quindi immagino la yugel, e ho avuto già dei belli risultati. Sto cercando di rendere fettura una terra sabbiosa riportando materia organica. Quindi, ecco, questo è un altro... Prima abbiamo parlato dell'argilloso, quindi parliamo proprio dell'opposto del terreno sabbioso. Anche per il terreno sabbioso questo è un buon modo di intervenire. Certamente. Certamente perché poi tendi a creare struttura, aumentare la sostanza organica e quindi a favorire la formazione dei complessi argillo umico. Questo è importante. Ci sono addirittura, in alcuni casi, appunto, magari un terreno estremamente, estremamente sabbioso, estremamente sciolto, in cui potrebbe essere addirittura utile riportare delle argille per dare ulteriore struttura. Dipende sempre dalla tessitura del suolo. Quindi ecco, la conoscenza del suolo, e qui mi rimando al primo corso che abbiamo realizzato, il suolo è vita, è fondamentale. Capire con che cosa abbiamo a che fare, che tipo di suolo abbiamo, che struttura di suolo abbiamo, che storico c'era in quel suolo che andiamo a gestire, e quindi poi scegliere, progettare, applicare il metodo migliore. Non c'è una ricetta predefinita. Dobbiamo sempre immaginare di avere più freccia al nostro arco possibile, utilizzare quella più efficace. E anche sperimentare, insomma, all'inizio, finché non avete trovato quella che fa per voi, provate più tecniche diverse, per questo che noi cerchiamo sempre di fare grandi proposte. Il Lynch ci dice, avete già parlato delle dimensioni? Sì, in realtà, ce l'hai già detto, Cristiano, però se vogliamo ripeterlo, perché io per esempio questo aspetto lo voglio sottolineare, alla fine siamo partiti da uno scavo di un metro, però poi quando si va a giungere ci si allarga un po', adesso è abbastanza larga e quindi diciamo una posizione non comodissima, quando vado a lavorare sulla sommità. Esatto, sì, anch'io nella prima Yougel ho allargato eccessivamente, quindi poi ho sopperito mettendo molte aromatiche e quindi coltivando più nelle zone laterali. La larghezza, proprio per un discorso puramente gestionale, deve essere intorno a un metro e venti, un metro e venticinque. Quando è già un metro e mezzo, che è la larghezza che spesso trovate in letteratura, può essere già più complessa da dover gestire, perché un metro e mezzo è molto largo, ecco, per un'aiuola. La lunghezza è variabile, dipende dall'estensione e dalla vostra aiuola e l'altezza, anche questa, varia moltissimo, dai 40-50 centimetri fino a, ecco, un metro e mezzo indicativamente. Sono sistemi anche interessanti perché appunto permetterebbero veramente a chiunque di coltivare perché ve la ritrovate quasi ad altezza uomo. e tra l'altro se la immaginate in più sezioni, più yugle anche parallele che potrebbero seguire una curva di livello, ma anche semplicemente due yugle che si accostano, al centro, nel quello che sarebbe il camminamento, potremmo addirittura allestire un punto di compostaggio di vermi compostaggio, che poi a rotazione può diventare anch'essa una striscia di coltivazione o un'altra yugle in un contesto di rotazione. Quindi capite che è estremamente versatile, anche perché spesso appunto come abbiamo realizzato al Bosco di Ocigia c'è uno studio sulle curve di livello, quindi se posti su i punti dove l'acqua andrà a muoversi lei contribuirà a drenarla, a contenerla, a rallentarla e soprattutto a immagazzinarla. Quindi molto, molto intelligente. Tra l'altro questo sistema pronunciato di questa coltivazione su tumulo, su questa collina, avremo anche dei lati differenti che quindi avranno anche un ombreggiamento differente e un irraggiamento quindi differente e quindi anche potremmo coltivare e avere più colture diversificate perché abbiamo molti più microclimi all'interno della stessa yugle. Ok, va bene. Senti, una domanda mi viene in mente riguardo all'irrigazione. Un impianto a goccia può funzionare in una zona così rialzata visto che insomma serve una certa pressione quindi quando uno va per caduta diventa complicato. Certo, allora sì, diciamo l'impianto a goccia può essere più problematico nel caso di una yugle e sicuramente non sono sufficienti le due classi che ha le gocciolanti quindi sicuramente dovrò studiare almeno tre o quattro passate di tubi però ecco settimanalmente io nella mia esperienza ho trovato essere molto utile quella proprio di innaffiare con il tubo e con un diffusore quindi bagnare abbondantemente poi pacciamare molto abbondantemente anche qui il terreno è costantemente coperto e soprattutto consociare e anche utilizzare quel principio del biointensivo quindi di coltivare in maniera molto ravvicinata e di coprire completamente tutto il mio orto tutta la mia aiuola con le piante che io coltivo anche che possono essere anche spontanee ma io devo avere praticamente il terreno completamente coperto di pacciamatura verde questo è proprio l'obiettivo va bene quindi quindi diciamo che a differenza insomma di altri sistemi dove si cerca di mettere proprio il minimo dell'acqua per tenere in vita la piantina qui ci si deve ricordare che è bene che rimanga tutto il cumulo umido perché possa continuare tutta quella vita tutta quell'attività non è acqua che va sprecata perché appunto ci porta a decomposizione e poi comunque le piante che allungheranno le loro radici hanno un modo di raggiungere sempre un po' d'acqua anche quando magari non abbiamo avuto il tempo di annaffiare in superficie ecco questo quindi è diciamo annaffiamo il cumulo in questo caso non tanto la singola piantina dobbiamo pensare a tutto ancora Ted di Versonic Graph dice per avere più microclimi è meglio fare tumuli nord e sud o est o ovest dipende dallo scopo io per esempio ho sfruttato il fatto di realizzare una yugel in un angolo dell'orto quasi come se fosse un margine un confine e preferisco prendere ecco il sole da sud est però ovviamente poi dalla parte opposta ho meno sole più ombra e questo mi facilita per certe coltivazioni che vogliono più ombra più copertura e meno sole e anche la zona che tra l'altro prendendo meno sole ti resta più umida quindi anche qui sarete voi a capire e decidere cosa coltivare nel vostro cumulo e vi parlo nel mio caso di una yugel che è lunga 10 metri quindi comunque sia ti dà molto margine di sperimentare e tra l'altro ho cercato di lavorare moltissimo con le officinali che si prestano in maniera eccezionale a questo tipo di coltivazione e quindi a loro volta nella stessa yugel avrete anche una stratigrafia una coltivazione verticale delle ulteriore zone d'ombra e di protezione tra l'altro contro gli agenti climatici qui vedete alcune immagini di cui sto parlando che vi permettono di creare microclimi su microclimi e zone d'ombra zone umide zone protette anche per esempio hanno funzionato egregiamente contro la grandine e anche contro il vento molto molto forte quindi queste sono le immagini dell'orto di Cristiano che ogni volta che vado mi lascia stupefatta perché l'orto di Cristiano è piccolo tra virgolette cioè il mio è molto più grande il bosco di Gio ci si perde il bosco di Gio piccolo non piccolissima però insomma è relativamente piccolo ma è così ricco di terra rigenerata di materia organica che Cristiano riesce a produrre tantissimo quindi questo secondo me è un consiglio importante anche quando abbiamo gli orti piccoli pensiamo Dio poco spazio ma guardate che se si rigenera la terra come si deve si ottiene tantissimo un poco spazio quindi non vi scoraggiate e poi anche insomma è utile è importante abbiamo scarsità di suolo quindi utilizziamo al meglio quello che abbiamo e rigeneriamolo il più possibile tra l'altro è arrivato un commento carino prima di Giovanna dal corso suolo ho imparato proprio questo sperimentare quindi quando ce l'ha scritto quando parlavamo del fatto di provare tante tecniche e aggiungo divertirsi questo mi fa piacere il corso suolo era diciamo dedicato appunto tutto alla rigenerazione ok Filippo ci fa vedere questa domanda nel frattempo vi passo un'altra però allora qualcuno Fabrizio ci chiedeva non aveva sentito la risposta sulle canne palustri si possono si ci pare utilizzare come materiali questa quindi Fabrizio Garofani che mi confermo abbiamo risposto già poi Fabrizio se vuoi puoi rivedere la puntata che rimarrà pubblicata poi questo qui aspetta mi ha dimesso la tua foto grazie allora questa domanda non l'ho capita bene buonasera come è meglio fare un'aiuola sotto terra forse sotto sera c'è scritto ma forse vuole essere sotto serra immagino di Vlad Moraru sì scusate se abbiamo capito bene sotto sé cioè creare un'aiuola sotto una serra ipotizzo che questa sia la domanda non so se Cristiano ha qualche se parliamo all'interno di una serra anche lì si possono creare delle mini aiole rialzate in quel caso quindi tu avrai il tuo sistema di viabilità i tuoi camminotori e X aiole leggermente rialzate ovviamente la Yugel è una struttura un metodo che applica all'esterno comunque sia non all'interno di una serra però è altrettanto vero che questa struttura si presta a essere anche una dimora protetta ovvero è possibile realizzare delle coperture io spesso semplicemente uso dei teli ombreggianti che fungono anche da protezione per gli insetti ma anche miticano la temperatura oppure per esempio installare degli archi e coprirla con un telo e diventa automaticamente una serra essa stessa dove all'interno c'è la Yugel quindi una Yugel scusami una serra su misura per la Yugel esattamente già la Yugel ti dà la forma la struttura della serra è arrivata una domanda particolare prima te la leggo riscaldare il terreno con un impianto a pavimento ad acqua ha senso in zone che per due tre mesi vanno almeno la notte sotto zero cioè qui il riscaldamento a pavimento lo facciamo nell'orto si può le vorrei domandare come scalda l'acqua quanta energia ci va insomma dipende quanta energia ecco bisogna fare dei calcoli è evidente ci sono anche delle serpentine semplicemente che sono delle resistenze elettriche per i semenzai e per le serre che scaldano sotto il terreno sono tutti sistemi che si possono utilizzare ecco bisogna sempre rimanere però in un'ottica di sostenibilità energetica questo è importante assolutamente sì diciamo che se uno per qualche riesce non so per qualche ragione a scaldare l'acqua un surplus di acqua un solare termico che magari può avere anche senso posso anche pensare ecco che magari riesce a scaldare l'acqua sfruttando la fase termosola del compost in quel caso perfetto ci sono vari progetti che la sfruttano quindi dipende sempre poi ecco cercate sempre una visione sistemica appunto di progettare progettare con il minimo di energia possibile quella della fase termofila del compost è veramente una possibilità concreta se uno riesce a fare un cumulo abbastanza grande che poi va avanti perché altrimenti non puoi ricreare diciamo il cumulo ogni 20 giorni diciamo diventa forse se riesce a fare un bel cumulo grande quindi poi la fase va avanti per parecchio potrebbe essere una possibilità a quel punto copri qualche mese anche qui nel nostro corso abbiamo fatto delle applicazioni interessanti sì sì ci sono tante possibilità certo diciamo scaldare la terra non ci avevo pensato però in realtà perché no insomma abbiamo necessità di produrre per tutti i mesi dell'anno tanto di più portare diciamo la coltivazione vicino casa invece di andare a comprare cose esotiche diciamo da molto lontane quindi questa è una possibilità insomma fatte con intelligenza le progettazioni ci possono veramente dare ci possono veramente dare tante possibilità tante strategie di sopravvivenza ma magari è vicino a una zona termale e quindi c'ha acqua calda è vero magari c'è qualcuno che ha la fonte termale là sotto casa e quindi ci sono varie possibilità assolutamente tu sei vicino insomma nei comuni stanno cacciando dei bagni non ce li hai infatti era una cosa che avevamo proposto noi come gruppo di ragazzi a livello comunale di iniziare a pensare anche a una progettazione di un orto soprattutto per il periodo invernale che sfruttasse l'acqua termale di esubero che comunque sia ha sempre una temperatura importante e quindi riesce a mitigare perché l'obiettivo non è creare una sera tropicale ma mitigare le basse temperature perché è più che sufficiente molto spesso anche semplicemente appunto costruendo una dimora protetta già fate un'enorme differenza perché molto spesso il danno delle basse temperature non è proprio la temperatura che va sotto zero ma l'umidità che si attacca alle piante e poi gela è quella che per molte ore crea un danno proprio all'epidermite delle piante quindi se si riesce a evitare quella gelata già si è fatto tanto esattamente va bene che ci avevasi già pensato l'acqua termale per chi sta in zone con acqua calda che non insomma trovare delle applicazioni in agricoltura sarebbe importante altra domanda interessante sempre da Vlad ho piantato il limone con questa tecnica e ho ho fatto ho buttato in un buco tanti tronchi e sta crescendo molto veloce ecco la tecnica è sempre interessante si può utilizzare più o meno anche per gli alberi certamente sì noi abbiamo ecco generalmente sperimentato nella stragrande maggioranza dei casi sulle orticole sulle officinali sulle aromatiche ma in realtà si sposa perfettamente anche con gli alberi ecco considerando che vi ritrovate una pianta che tenderà a crescere già sopra un cumulo quindi ecco immaginate non come ora la pianta ma come sarà e come dovrà essere soprattutto per un discorso gestionale comunque certamente sì sono sistemi che si sposano con qualsiasi tipo di coltivazione ok Giovanna dice scusate non mi è chiaro il sistema proposto di inserire nella Yuga il culturum vermicompost probabilmente si riferisce quando abbiamo parlato di diciamo due Yuga e culture parallele dove al centro quello che potrebbe essere il camminamento posso realizzarci un ciclo di 3-4 mesi di compostaggio vermicompostaggio ok quindi diciamo non è magari coltivando naturalmente nelle zone laterali quindi capite dipende qual è il mio obiettivo se ho necessità di aumentare la sostanza organica di produrre molto compost di produrre molto vermicompost per rigenerare il suolo questo sistema può essere già un punto di partenza per coltivare ma già un sistema che mi permette di creare altra sostanza organica per rigenerare altri suoli è un circolo virtuoso ok senti devo fare un'altra domanda scabrosa io ho avuto dei problemi quest'anno anche nella Yuga il culturum ma in generale in tutte le tecniche che sto applicando nell'orto un po' troppe limacce su alcune piante soprattutto cavoli finocchi veramente l'attacco è stato letale per molte piantine insomma ci sono rimasta un po' male senti possiamo evitarlo in qualche modo visto che il cumulo è protetto diciamo è una coltivazione limitata nello spazio possiamo difenderci sì anche ho avuto un attacco importante quest'anno può essere molto utile che al momento del trapianto voi alla base della piantina stessa o dell'aiuola mettiate o una grossa quantità di gusci d'uovo che però è difficile reperire in quantità importanti perché dobbiamo fare proprio una barriera fisica in questo caso però potete utilizzare molto più semplicemente la semola la semola di grano miscelata macinata che quindi da un certo punto di vista è appetibile perché per loro è un mangime molto prelibato ma poi fisicamente una barriera di 10 cm non permette loro di avanzare quindi trovano altro cibo mangiano quello e non avanzano perché farebbero anche fatica a farlo esattamente va bene quindi le nutriamo non vorrei che ce ne troviamo di più l'anno prossimo questo no le tiene lontano perché qual è il punto è che una volta che la pianta è cresciuta a sufficienza dopo riesce a gestirle è questo il discorso all'inizio la pianta è molto piccola quindi è predata può anche morire mentre quando la pianta è cresciuta che ha superato anche lo stress del trapianto quando è di circa 10-15 cm dopo può essere attaccata ma il danno è molto minore comunque sia è anche opportuno poi a quel punto fare un'ispezione e anche una cattura massale e allontanarle fisicamente io molto spesso le do da mangiare agli animali oppure un'altra tecnica per chi è propenso tra l'altro si utilizza nel biodinamico è utilizzare chiocciole limace e tutti questi animali per creare proprio un macerato e poi spruzzarlo sulle piante e sul suolo perché poi influisce anche a livello energetico ok questo diciamo è un altro capitolo molto molto basso comunque grazie di averci invece l'aperto guarda ti faccio ancora una domanda ma siamo in chiusura perché sono quasi le 10 allora ho intenzione in questo anno di mettere nella mia piccola serra un piccolo barbecue di quelli chiusi e far andare la carbonella molto lentamente solo di notte quindi ci suggeriscono un altro sistema per tenere calde per tenere caldi di spetture sì 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 anche qui era utilizzato sì sì piccoli forni piccole stufe dei piccoli braceri con delle braci già aiutano a mitigare la temperatura ok grazie Cristiano allora adesso lo ricordiamo il corso però eh allora permacultura andiamo a progettare il titolo è stato realizzato il corso con tutta la scuola del bosco quindi oltre a Cristiano ci sono Carlo Cappelletti Fabio Pinzi Eva Heinzreich ci sono io e ci sono tanti anche altri ospiti perché quando parlando di permacultura veramente si vanno a toccare tantissimi temi diversi ci siamo concentrati anche stasera nella parte cura di terra e natura ecco Filippo ci ha fatto apparire il fiore ma sono tanti i petali e tanti temi da affrontare quindi siamo andati anche ad intervistare a raccogliere insomma lezioni da altri esperti su altre materie quindi troverete altri nomi e pensiamo insomma di aver fatto un buon lavoro che però vorremmo far crescere siamo contenti perché sta andando bene ha ricevuto insomma attenzione e quindi niente questo ci stimola a fare ancora ancora meglio quindi ad approfondire questo corso ed eventualmente a fare altri corsi che siano complementari fino a domani quindi fino al 30 settembre il corso ha lo sconto del 45% quindi iscrivetevi e vi ricordo che sulla piattaforma c'è anche la possibilità di fare delle domande quindi vi risponderemo sia per scritto ma cercheremo di organizzare anzi organizzeremo sicuramente altre dirette dove poter sviscerare meglio insomma i diversi argomenti in base ai temi che vedremo che sono più insomma che richiamano più la vostra attenzione o che richiedono i maggiori approfondimenti quindi insomma fateci anche là le domande che insomma le poi cercheremo di approfondirle nel corso di altre dirette andremo avanti con le dirette ne abbiamo già fatta una con Fabio ne abbiamo fatta una con Carlo stasera Cristiano manca Eva quindi avvertiamo Eva se ci sta seguendo che è presto toccherà a lei va bene grazie Cristiano non so se tu vuoi aggiungere qualcosa un incoraggiamento tra l'altro innanzitutto ringraziamenti a tutti quelli che ci hanno seguito ovviamente fantastico bosco di Ocigia e soprattutto ecco il consiglio di sperimentare provare veramente queste tecniche perché danno dei grandi risultati e soprattutto nell'orticoltura veramente potete arrivare a dei risultati incredibili anche a dei livelli di autoproduzione molto importanti anche su dimensioni molto limitate veramente potete e avete gli strumenti di cui parliamo in questo corso in maniera molto specifica per un'autoproduzione sana biologica naturale veramente a metro zero grande come è che la permacultura ti ha cambiato la vita sono entrato nel tunnel dovevo entrare nel tunnel e non si esce attenzione però è bello è bello perché cambia tutta la prospettiva è una grande scommessa la vita diventa più interessante perché ci sono così si aprono talmente tante porte da approfondire che diventa un piacere ogni giorno imparare qualcosa di nuovo sperimentare qualcosa di nuovo una delle tante ragioni per studiare la permacultura grazie Cristiano veramente buona serata a te a tutti buona serata a tutti grazie a tutti grazie Filippo grazie che ci ha sostenuto come al solito di addietro le quinte ciao